spaghetti al tonno in bianco, aglio, olio, peperoncino in una padella, due alici sott'olio, facciamo soffriggere fin quando non si scioglie il tutto, abbassare la fiamma, quindi aggiungiamo il tonno, lo sminuzzate con l'aiuto di una forchetta, facciamo insaporire e successivamente mettiamo il vino bianco, qualche minutino di cottura, il tempo che il vino evapora e successivamente mettiamo gli spaghetti, qualche cucchiaiata di acqua di cottura, mescolare bene, aggiungere il prezzemolo sminuzzato, piatto semplice e veloce ed eccolo pronto da gustare, c'è un profumino, buon pranzo a tutti!